ciao a tutti allora nuovo video su vuoto la spesa sempre nel mese di luglio ma conad allora abbiamo speso era 144,75 ma con lo sconto famiglia e abbiamo pagato 130,27 tonno all'olio d'oliva confezione risparmio da 9 scatolette poi tonno al naturale due confezioni da 3 scatolette poi pasta di lenticchie rosse 100% farina di lenticchie rosse poi quattro confezioni di dolcificante oreo, due pacchi di fazzoletti, due confezioni di gran ragù star, uno è con speck e uno extra gusto poi una bottiglietta di fanta zero, due di estate zero, due di coca cola light anzi no zero quattro barattoli di faggelini, un barattolino di capperi, un pacchetto di questi cappelletti con un prosciutto crudo poi ho preso due confezioni di chewing gum e una l'ho aperta perché stavo morendo di fame sono le tre e io non ho ancora pranzato quindi ho un pochino di fame ho ripreso il farro soffiato perché mi è piaciuto tanto due brick, come si chiamano questi, di succo di ananas due marmellate alla fragola, un barattolozzo di nutella della valsoia biscotti al cacao, magretti della galbutera poi barrette, queste sono arachidi e cioccolato al latte queste sono mandorle e cioccolato bianco pane che si è un po' distrutto a quanto vedo questo qui è pane e quattro cereali e l'ho preso la volta scorsa e mi è piaciuto tanto quindi l'ho ripreso finalmente sono tornati, sono riapparsi, riapparse le fette vegane questo formaggio ha fette un pacco di carta igienica poi un pacco di scottex ho preso anche questo pane pane multicereali, biologico e poi ho preso anche questa dranola con frutta secca bio che mi fa un sacco gola poi tre confezioncine di panna di soia il togo ho ripreso dopo un bel po' di pausa la polenta non so in realtà se la mangerò a breve però intanto l'ho presa poi una confezione di tofo affumicato questo è abbastanza buono perché comunque sa di qualcosa una bella fettona di cocomero e un altro pezzo di cocomero poi due confezioni di gelato ringo che Francesco l'ho assaggiato a casa mia suocera e è entrato in fissa con il gelato ringo quindi li abbiamo riprovato e li abbiamo preso poi ho provato a prendergli anche questi crocca fish con il salmone affumicato poi filetti di merluzzo alla mediterranea virtù di zuppa con cereali integrali sono due e poi due contorni di verdure qui c'è broccoli cavoletti di Bruxelles e cavolfiore allora una confezione risparmio da tre bottiglie di svento all'aceto c'è qualcosa che perde questo qui è anticalcare per il bagno sgrassatore disinfettante ammorbidente vernell questo qui oddio mi sa che è questo che perde ne manca un pezzo comunque questo non l'avevo ancora mai provato ed è senza di peonette bianco e sembra buono sono pieno poi ho preso questa confezione risparmio con tre bottiglie di detersivo per i piatti chanteclair e poi ho preso tre sacchetti di lettiera agglomerante per i piatti ah lo schieno ok questo è tutto io ora vado a mettere a posto la spesa poi finalmente mangio quindi grazie di aver visto questo video spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao ciao